Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web nel penultimo episodio di questa seconda playlist sulle curiosità. Come già accennato ieri, oggi parleremo di Danzo Shimura, che ha ricoperto la carica di Okage per pochissimo tempo. Ma bando alle ciance e cominciamo! Numero 1 Il suo nome deriva da un personaggio storico realmente esistito, cioè il maestro ninja Kato Danzo, vissuto nella prima metà del 1500 in pieno periodo Sengoku. Tuttavia, attorno alla sua figura circolano tuttora parecchie voci e parecchie leggende, come è che fosse in grado di sparire in una nube di fumo, di ipnotizzare i suoi nemici o di diventare invisibile sotto la luce lunare. Numero 2 Nel databook ufficiale, oltre a tutti i dettagli su forza, tecniche, aspetto fisico, eccetera, eccetera, è riportato anche un tratto molto peculiare di lui. Infatti, sembrerebbe un tipo che preferisce evitare i combattimenti, pur essendo uno dei ninja più forti della vecchia generazione di Konoha. Numero 3 Fin dal momento della sua prima apparizione, Danzo è sempre stato uno dei personaggi più odiati dai fan di Naruto. Questo perché effettivamente la sua politica è sempre stata di difficile comprensione, seppur lui avesse agito per il bene del villaggio, anche se con metodi molto discutibili. E la prova è il suo cognome, Shimura, che se scritto in caratteri kanji si traduce in intenzione e villaggio, da cui possiamo ricavarne il suo motto, cioè agire per il bene del villaggio con ogni mezzo e con ogni intenzione possibili. Numero 4 Una delle cose più curiose riguarda i suoi Sharingan. Danzo ha recuperato gli occhi degli Uchiha massacrati dai Tachi e ha anche rubato un occhio a Shisui, ma nell'anime possedeva già l'arte oculare, anche se non viene specificato bene come. Molti fan pensano che l'abbia presa dal suo amico Kagami Uchiha, quando erano entrambi molto giovani. Numero 5 La tecnica del richiamo di Danzo è molto particolare. Egli infatti è in grado di evocare una creatura molto potente, il Baku, una sorta di chimera dalla forma elefantina, simile ad un tapiro, in grado di divorare i sogni e gli incubi. E più l'attività onirica della vittima è ricca, più i suoi incubi sono spaventosi, più il Baku diviene potente. Un'ottima scelta per un personaggio che incute una certa paura come Danzo. Numero 6 Danzo possiede molti Sharingan e anche il DNA del primo Kage Hashirama, elementi che lo rendono sì un avversario molto temibile, ma che hanno anche indirettamente contribuito alla sua disfatta. Infatti controllare un qualcosa che è un potere innato come lo Sharingan o il Mokuton richiede un enorme sforzo mentale e fisico per mantenere in equilibrio il chakra. Sforzo che ovviamente si fa sentire in battaglia, per questo verso la fine del duello con Sasuke Danzo ha dovuto separarsi dalle cellule di Hashirama, altrimenti esse avrebbero preso il sopravvento su di lui trasformandolo in un albero. Quindi possiamo dire che la vittoria di Sasuke è anche merito dell'enorme effetto collaterale di quei poteri su Danzo. Ecco ragazzi il video di oggi finisce qui, ma il nostro appuntamento continua domani con l'ultimo episodio, dedicato al personaggio che possiamo considerare come il vero sesto Kage. Detto questo statemi bene e a domani! Grazie per la visione!